Oiste! A che me ne fotte a mio teatro? Tanto quando esco da qua dentro faccio le stesse cose che facevo prima! Stefano Te, nato a Napoli il 31-12-1977, l'ultima ora di lezione salta e mi trovo da solo davanti alla scuola Dove sta la mamma del padre? Non lo so Se poi li troviamo li ammazziamo e afferra la faccia con la mano e mi stringe fino a far toccare l'interno delle braccia Poi mi tira la pistola in bocca Dove sta? Si mi butti e ti sparo La sua mano si stacca dalla mia faccia e mi stringe le palle La sua mano si stacca dalla mia faccia Noi La sua mano si stacca dalla mia faccia Non lo so Ma non lo so Ma non lo so Piangevo 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 e basta Pensavo a dolore che potevamo provare se questo sparava Si vuole subito O si sente prima dolore Noi Una signora predestita Forse una maestra Esce da un portone alla mia destra Quello subito mi sfida la pistola in bocca Stacca la mamma del padre Noi 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 Sì, 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 sì. Sì, sì, sì. Sì, 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 sì. Sì, sì, sì. Sì, 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 sì. 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 Sì.